Ti aspettiamo Ti aspettiamo Scopri le giochillerie aderenti Regolamento su sagop.it Sei in tutta l'effetto Veloce per E più ad arrivare a fine legislatura Ancora con Draghi a determinare la decisione E' cita Pavel Mi dai un po' di p***a? Cioè, me lo ricordavo più spazio. Ma dipende che zona sei, no? No, non ti toglie! Guardi! Perché mi ha fatto altre pantagnesi? Non è in giro. Guardi! Guardi! Vi attraverso il senato, vieno a fatto di male. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.